Per fare questo esercizio vado a utilizzare un elastico che vado a posizionare sotto alla pianta dei piedi. Una volta fatto questo, la prima cosa da fare è mettersi belli dritti con la schiena, portare le mani vicino alle spalle e infilare i gomiti all'interno dell'elastico. Quindi infilo e spingo con i gomiti indietro. Una volta raggiunta questa posizione, quello che devo fare è stringere i glutei e spingere le braccia verso l'alto. Tengo un secondo e ritorno giù, nella posizione di partenza, quindi elastico sotto al mento. E poi li spingo su. La discesa è lenta, la salita un pochettino più veloce.